Dopo un ottimo debutto in terra inglese ci si appresta a confermarsi. Oggi torniamo qua con il nostro Pato nella carriera giocatore di FIFA 22. Prima partita contro il Manchester United, partita che sarà tipo difficilissima, però dobbiamo provare a portare a casa un risultato. Un risultato che potrebbe essere clamoroso, tra l'altro siamo contro CR7, quindi insomma non male. Devo prendere almeno 7 dribbling riusciti di 50% e posso assopare la squadra almeno 55. Sarà complicato considerando contro chi siamo, non siamo contro degli scarsoni, quindi insomma. Vabbè, CR7 contro Pato, sarà una sfida bellissima. Giro palla, niente, sono ancora qui, bravi. Pato, Pato, niente. De Gea c'è. Guarda mi ti prego, sono qui. E stai qua, sono libero ma... Sì, però non puoi fare un cross del genere, su. Ancora Pato. Pato. Bravo. Pato. Eh, ci sto provando, eh. Ma cos'è sto stop, Pato? Che stop ha fatto? Bruttissimo. Di una bruttezza inaudita, inaudita. Sì, però, rega... Bravissimo, Pato. 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 Eh, non era male, non era male. Stavolta però crossa me la Vena. Vena, sì, Vena. Avena. Occhio al pallone in mezzo. Niente. Ah, niente Avena. Fatto. Fatto. Mamma mia, De Gea, ancora lui. Stiamo giocando un gran bene oggi, devo dire che stiamo... Questa è un'immagine iconica per la copertina dell'episodio. Ronaldo contro Pato. Eh... Vince Pato, ovviamente. State scherzando. Dai, Pato. Su. Bravissimo. Bello questo cross. Il cross era buono, però se nessuno ci va è un problema. Pato. Ottima palla. Pato, ci prova. Oh. Oh. No, eh. Sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Sono qui. Sono qui. Sono qui. Sono qui. Pato. Ancora gol. Ancora gol. 1 a 0. 1 a 0 contro il Manchester di Cristiano Ronaldo. Ammazza però. Ma che cosa ha fatto, tra l'altro? Non vogliamo parlare? Non... Un bel tiro. Devo dire un bellissimo tiro. Un bellissimo tiro. 1 a 0. Siamo... Siamo avanti. Anziché, è il primo gol in Premier League che faccio. Ho visto prima, è il primo gol in Premier League. Incredibile. Incredibile. Contro il Manchester. Questo avviene. Bene. Primo tempo molto positivo. Stiamo giocando un gran bene. La squadra... Devo dire che... È una gran bella squadra. Cioè... Rispetto a dove eravamo prima... Meraviglioso. Meraviglioso. Rispetto a prima... Cioè... Un altro livello. T'ho visto? Guardate che assist che ho fatto. Mamma mia che assist che ho fatto. Mamma mia ragazzi che bello. Che cavolo... Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto? Cosa ho appena visto? Ma ne vogliamo parlare? Sono... Senza parole. Sono senza parole. Ho fatto un lancio meraviglioso. Ma anche questo neto... Ha spaccato la porta. Ha letteralmente spaccato la porta. Pato. Pato. Ci prova. Mazza oh. Era... Era un tiro meraviglioso. Era un tiro meraviglioso. Sono qui. Sono qui. Sono ancora qui. Ah. Sono ancora qui. Saltalo. E vabbè. Che classe cristallina. Che classe... Ah. Ho un po' azzardato. Ho un po' azzardato. Diciamocelo. No. No, 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 no. E vabbè. E vabbè. Il Manchester riapre la partita. Proprio con Cristiano Ronaldo. Come poi si poteva immaginare. Questo è il campione. Questo è il campione. L'aria aperta, eh. È il primo tiro che fanno in porta. Serio. È il primo tiro. È incredibile. L'abbiamo giocata veramente bene. Non facciamoci rubare la vittoria proprio ora. Non è il momento adatto, ragazzi. Non è il momento adatto. È un giro palla quasi ipnotico, questo. Bravo Pato. Guarda il movimento in area. La mette in area verso i compagni. Ah, peccato. Era un buon tiro, ma troppo debole. Ma troppo debole. Ultimi dieci minuti. E poi finirà la partita. Stiamo attenti. Stiamo attenti. Perché questi tre punti potrebbero essere veramente storici. Portare a casa tre punti contro il Manchester è storico per i Wolves. Dai. No, 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 ragazzi. No. Mamma mia. Mamma mia cosa ha preso questo portiere. Entra El Matador. Cavani. È molto forte. Lo sappiamo. Pato, devi tornare. Dobbiamo tornare, Pato. Dobbiamo tornare. In difesa. Oh, cavolo che la perdo sta partita. Oh, cavolo. Bravo, Pato. Che disturba. Teniamo palla. Teniamo palla. Teniamo palla. Non buttiamola. Vabbè, però come fai? Come fai a non passarla a Pedro? Non è Pedro. È Neto. Come si chiama poi? Pedro, sì. Neto. Guardami. T'ho visto. Ma non lui. Ma che cavolo c'entra lui. Che cavolo c'entra lui. Era per quell'altro. Più in fondo. Pato. Spendi lo sto fallo, niente. Comunque. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto contro il Manchester. Impresa clamorosa. Clamorosa. Devo dire che sono veramente entusiasta. Non credevo che potessimo farcela. Non credevo, invece, quanto pare. I numeri ce li abbiamo. Allora, obiettivi partita. Il voto sicuramente l'ho preso. Possesso palla no, ma chi se ne frega. E... Beh, 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 beh. Non è andata male, eh. Anzi, anzi. Per niente male. Diciamoci la verità. E... Finisce il mercato. Vabbè, che c'è frega del mercato ora. Che c'è frega del mercato. Vabbè. Seguiamo il mercato. Vediamo se arriva qualche offerta. Siamo appena arrivati, quindi non credo. Ma non si può schippare totalmente fino alla fine, no, eh. Bisogna per forza sorbirselo tutto il tempo. Bello. Una cosa molto figa. Ce la possiamo fare, eh. Mancano tre ore. Dai, tanto ho capito che non arrivano offerte. Su. Dai, dai. Che voglio andare alla prossima partita. Voglio andare a giocare in un'altra. Oh, finalmente. Allora. Karabau. Contro lo Skunzorp. Vabbè, direi che contro questi possiamo... Siamo anche stanchi. Possiamo giocare un tempo. Se stiamo vincendo possiamo anche uscire. Tranquillamente. Anche perché siamo stanchi. Non vorrei andare a incorrere in infortuni. a meno 8,5, 50% tra i tiri in porta. Si può fare. Ma questi lo stanno di categoria. Si sa. Ma sarei curioso di capire dove stanno questi. Non li ho mai sentiti. Tutta la mia vita. Pato. Hai visto? Che lancio che l'ho fatto. Che lancio ti ho fatto? Eh, però. Cioè, veramente. Sei da ufficio inchieste. Pato. Pato. Eh, passami sta palla. Che scarsone. Ma chi è questo... Questo esterno che ho? Questo numero 11. Bravissimo. Dai, però avacci. Rigore? Mi piace. Mi piace assai questo rigore. Netto, netto, netto. Ma... Ma fanno tirare a me. Ma chi è questo qui adesso? Ma perché? Mamma mia. Lo stavo anche per sbagliare. Lo stavo anche per sbagliare. Comunque. 1-0. Primo tempo noiosissimo. Veramente noiosissimo. Della noia mortale, ragazzi. Un primo tempo così nullo non l'ho mai visto in vita mia. E siamo contro una squadra, cioè, molto più scarsa. E non riusciamo a fare gol. A parte questo rigore, vabbè. Un po' fortuito. Cioè, due tiri. Due tiri. Ragazzi, due tiri. Io non so cosa dire. Ho fatto zero tiri in porta io. Cioè, non siamo riusciti a dialogare. Non posso neanche uscire. Non posso neanche uscire. E questo è il problema. Ah. Cioè, se riesco mi chiamano un sacco di punti. Pato. Pato. No, vabbè. Il palo no, però. Il palo è cattivo. Il palo è cattivissimo. Non riusciamo a... A tirare e segnare. Questo è il primo tiro pulito che riesco a fare. Ebbè, ecco il palo. Cazzo, rola. Il risultato resta apertissimo. Dai, dai. Siamo ancora qui. Però passamela subito. Eh, vabbè. Niente. Calcio d'angolo. Su. Pato. Eh, vabbè. Niente. Sono ancora qui. Bravissimo. No, no, no. Comunque questo gioco è veramente strano. Prima contro il Manchester, che doveva essere una partita complicata, che non riuscivo a fare nulla. Ho fatto una partita mostruosa. Ma contro questi non riesco a fare un gol. Ma attenzione. Non è ancora finita. Eh, però, Pato mio. Silentissimo, silentissimo. Cioè, veramente. Comunque, a parte di tutto, questo gioco è... Cioè. C'ho qualche problema. C'ho qualche problema. C'ho qualche problema. Di fondo. E siamo devastati. Siamo devastati. Pato non ha più stamina. Non ha più energie. Sta morendo dentro. Mi serve il medico. Chiamata aiuto. Mi prego. Niente. No. No. Mannaggia, mannaggia. Mi servirebbe solamente un gol. Per prendere il vuoto. Solo che non arriva, perché questi... Questi non fanno fatica a fare due passaggi in croce oggi. No, non ha... Non mi controlla neanche più la palla. È proprio stanco. Si vede. Si vede che è stanco. Sì, però, ragazzi, neanche di stop. Neanche di stop. Ragazzi, neanche di stop. Se la pareggiamo. Mamma mia, che brutta. Che brutta partita. Abbiamo vinto grazie al rigore. Abbiamo fatto schifo. Infatti penso che io... Gli obiettivi non li ho fatti. Mi sa di no, eh. Mi sa di no. Mi sa di no. Ne ho fatto uno. Eh, però ho perso un punto... Un botto di punti. Un botto di punti. Ah, posso allenarmi? Posso allenarmi? Fatemi allenare. Fatemi allenare. Dai che attivo 77. Su. Che ce la posso fa? Prima o poi. Allora, contro il Watford. La prossima volta. Quindi affronteremo Watford e Brentford. Due partite abbastanza fattibili. Poi in Coppa in Manchester, in Carabao. Bene, ancora. Un'altra volta. Insomma, becchiamo sempre in Manchester. Comunque, per oggi è tutto. Noi ci becchiamo ad un prossimo video, ragazzi. E ciao. Alla prossima. Alla prossima.